Dal 24 al 26 novembre prossimi Villa Santa Maria sarà protagonista di una serie di giornate dedicate a Pietro Marchitelli e Michele Mascetti, due musicisti di origine villese i quali appunto avranno l'onore di vedere dedicato questa tre giorni di convegni e anche di musica. Quindi Villa Santa Maria si propone come centro non soltanto rinomato per la cucina ma anche per i trascorsi musicali, vero Sindaco Finamore? Sì, allora diciamo di sì, in queste tre giorni abbiamo la possibilità, l'opportunità di poter far conoscere Villa Santa Maria e anche ai villesi che non li conoscono i nostri due musicisti Pietro Marchitelli e Michele Mascetti. In questo convegno che si sviluppa in una tre giorni, diciamo nella parte della mattina le sessioni vengono sviluppate all'Istituto Alberghiero. Avremo la possibilità di avere anche un convegno nella mattinata di lunedì dove ci sarà la dottoressa Carla Ortolani, Guido Olivieri, il professor Zimei che ci illustreranno un po' quelle che sono state le modalità e la storia della musica in quel periodo storico. Poi nella tre giorni avremo praticamente in tre giorni tre concerti che noi avremo la possibilità di ascoltare nella chiesa di San Nicola di Bari. In questi tre giorni ci sarà l'intervento di musicisti del Conservatorio della D'Annunzio. Quindi parleremo di storia, parleremo di questi due musicisti nati a Villa Santa Maria che poi successivamente si sono trasferiti a Napoli e che poi trovano il loro punto migliore di trasformazione e di conoscenza della musica e influenzano anche la musica in quel periodo storico a Parigi. e quindi parleremo di Mascitti e Marchitelli, due figli di Villa Santa Maria di cui abbiamo avuto l'onore di dover riconoscere già da tantissimi anni la loro nascita a Villa Santa Maria.